Presidente, videorun.it, appena finito questa serata che ormai è tradizione ma soprattutto è tradizione che il film camaldonese cresce a mano dopo anno. Grazie Marco, grazie Videorun, Videorun è una realtà, la seguo sempre su Facebook e tu non ci sei ma c'è Videorun, quindi grazie per la serata, sì stiamo crescendo e quello è il nostro obiettivo la famiglia cresce e grazie a tutti i partecipanti e grazie a te che ci l'ha presentato. Presidente, la sintesi del tutto l'ha detto proprio alla fine, quando ti ho chiesto di un sogno per il 2019 e il sogno del Presidente qual è? Il mio sogno è questo, vedere tanta gente in sala e il prossimo anno forse la sera sarà piccola però già questi sogni sono in sala intera. Grazie, grazie. Nuovi arrivi, grande qualità ma soprattutto tanta passione. tanta passione, tanta passione, i nuovi arrivi, i primi sicilio che vi annone, i nuovi arrivi e tanti tanti altri, quindi grazie a tutti. Presidente, in bocca al mondo e grazie per essere stato Videorun.it. Grazie.